CINICUS PODCAST TG, raccolta settimanale di notizie ma in chiave oligo-cinico-sarcastica. Un TG così non lo hai ancora ascoltato. Bentornati cinici al mio CINICUS PODCAST TG. Un TG così non lo avete mai ascoltato. Approfitto di questo giorno festivo, anche se non è proprio fra quelli più allegri, per rifilarvi una selezione extra di notizie in salsa cinica. Inerenti ai fatti della settimana dal 23 al 30 ottobre 2022. La settimana appena conclusa si ci ha regalato delle perle straordinarie di cinismo che voglio condividere con voi. Inizierei con la rubrica Starnazzi dall'interno. 22 ottobre 1922, le camicie nere marciano su Roma. 22 ottobre 2022, la destra di nuovo al potere in Italia. Complimenti, complimenti agli Sping Doctor per la scelta della data. Bella mossa mediatica. Se poi il 22 fosse caduto pure di domenica, sarebbe stato perfetto. Chapeau. La Meloni ha fatto il suo primo discorso alla nazione. Momento solenne, pregno di contenuti. Meloni, prima donna Presidente del Consiglio in Italia, Presidentess, Presidenta. Questa settimana esplosa feroce la polemica, totalizzante, tanto da ecclissare tutte le altre notizie. Crisi energetica, sociale, economica, guerra. Puttanate. Il problema è grave. Come la chiamiamo una donna che riveste la carica di Presidente del Consiglio? La Presidente? Il Presidente? La Presidentessa? La Presidenta? Ebbene, cari cinici, anche io nel mio piccolo voglio fare la mia proposta. Ah ah. Sia chiaro, parlo da semi-analfabeta disfunzionale. Io suggerirei Presidente, in quanto participio presente del verbo presiedere, ergo né maschile né femminile. Come la parola amante, che può essere coniugata in entrambi i modi. Che ne dite? Vi piace? Fatemelo sapere nei commenti. Comunque, finalmente, abemus governum. Quest'anno si è deciso di andare sul classico. Per l'occasione si è preferito un governo preconfezionato, in perfetto stile Berlusconi IV, collezione primavera 2008-autunno 2011. E dal 1994 che continuo a vedere sempre le stesse facce. Un po' a destra, un po' a sinistra, saltuariamente al centro, ma sempre le stesse facce. Che noia, non ne posso più. Il governo è partito subito alla grande con la proposta di alzare il tetto al contante fino a 10.000 euro. Vabbè, li capisco, con i prezzi che stanno prendendo idraulici e dentisti. Come Ministro della Difesa abbiamo un capo lobbista, il rappresentante dei produttori di armi. Anche questo, lo capisco, ci va un esperto in certe cose. Quando si dice dal produttore al consumatore. Ah, quando le armi a chilometro zero? Come Ministro del Turismo abbiamo la proprietaria della spiaggia privata, il tuiga più esclusiva d'Europa. Anche qui esperienza e professionalità da vendere. Sussurri dal Parlamento. Si sta discutendo sul possibile reintegro dei medici Novax sbattuti fuori a suo tempo, emarginati, ghettizzati, insieme a milioni di altri lavoratori italiani. Lavoratori, chi a casa senza stipendio, chi costretto ad un calvario fatto di segregazione, umiliazione, tamponi ogni 48 ore in code infinite sotto la pioggia e sotto la neve, bambini che non potevano salire sui pullman. Il nuovo frame dei media mainstream è il seguente. Almeno, secondo il giornalista Sorgi, è ribadito anche da Fazio qualche giorno fa. Sintesi, io, in quanto vaccinato, che ha sempre seguito le regolette, rivendico il diritto di non entrare in contatto con chi il vaccino non lo ha fatto. Perché? Come perché? Da barba pecorella mi sono iniettato tutte le puttanate che mi avete proposto, mi sono adeguato a tutte le norme, anche le più deliranti, ho goduto, grazie al green pass di una sorta di superiorità genetico-raziale e ora mi tocca ritrovarmi vicino a quelli lì, mi devo mescolare con i disoccupati con disagio abitativo, come scriveva Michele Bocci su Repubblica tempo fa? Ma scherziamo? Non esiste. I Novax dovrebbero essere, secondo il nuovo frame, identificabili, che so, con una targhetta o un codice a barre, non lo so, qualcosa. Ricordo a tutti, comunque, che il progettista dei famosi gazebo, i centri vaccinali, con il fiorellino, quello famoso del fiorellino, aveva proposto per primo l'idea che fossero proprio i vaccinati ad appuntarsi una spillettina in modo da ribadire la loro posizione. Quindi, invece di continuare a rompere gli zebedei e i novacas, perché la targhetta non se la mettono i SIVAX? Comunque sia, il pensiero che i Novax, iniziando dai medici, magari abbiano fatto una scelta consapevole, assumendosi la responsabilità del proprio gesto, soffrendo emarginazione e ostracismo sociale, continua a non sfiorare la testolina dei giornalai. Pensierino cinicus del giorno, come ebbe a dire tempo fa in un mio vecchio video, c'è chi ha più paura del virus che del vaccino e sceglie quindi di vaccinarsi. Ok, va bene. Esistono persone che vedono nel vaccino un rischio maggiore rispetto al virus e scelgono quindi di non vaccinarsi. Ok. Ci sono poi i decerebrati che seguono quanto detto in tv semplicemente perché non sono in grado di formulare un qualsivoglia pensiero. Va bene, ci sta pure questo. La cosa importante, secondo il cinicus pensiero mio personale, è che indipendentemente dalla scelta fatta, vaccino sì, vaccino no, cerchiamo di non colpevolizzare il nostro vicino solo perché ha delle paure diverse dalle nostre. E poi con questo frame dell'identificazione del non vaccinato, continua a gettare un falso senso di sicurezza nei vaccinati. Ragazzi, ancora non l'avete capito che anche se sei sparato 4-5 dosi puoi continuare da contagiare ed essere contagiato alla stessa maniera? Te l'ha dichiarato pure la rappresentante della Pfizer qualche settimana fa, insomma. Stralci di politica interna. Mentre la melona nazionale ci propinava un pippone di due ore al Parlamento, facendo pubblico voto di fedeltà antica ed europea, la sinistra, che ora si trova dopo un decennio circa all'opposizione, si sta interrogando sui motivi dello sconfitto? Non lo so, non ne ho la più fallida idea. Per il momento ha rispolverato, forse in qualche solaio, la vecchia retorica trita e ritrita stile anni 70, il pericolo fascista, il fascista e il governo. In tv e sui social ormai è un ritornello continuo. Mentre noi, cricettini consumatori, ci visticciamo, ci accappegliamo, ci stracciamo le vesti, no-vax, si-vax, fascisti sì, fascisti no, putiniani, atlantisti, e mai comunisti, e mai terzo polo, e mai l'animaccia vostra, i nazisti? Quelli veri, in carne ed ossa, che da tempo hanno abbandonato le camicie brune in cambio di eleganti abiti su misura, che viaggiano in auto blu, che siedono sulle poltrone del World Economic Forum, se la ridono allegramente in attesa della prossima adunanza di Davos. I media sono pagati per mostrarci il dito per non farci vedere la luna. Nel mentre, gli studenti universitari hanno occupato l'Università La Sapienza di Roma per impedire, credo, una conferenza. Ne sono seguite le solite manganellate della polizia. Ecco, i fascisti sono tornati, si evocano immagini di manganelli, olio di ricino. Curioso. La critica proviene dagli stessi media e intellettuali che allegramente hanno glissato sulle manganellate a studenti ed operai che protestavano contro le leggi razziali del Green Pass negli ultimi due anni. Comunque, il nuovo governo non è stato di certo a guardare. Oh, sì, 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 sì. Sfruttando l'occasione offerta da un rave in quel di Modena e dintorni, il nuovo governo ha varato il suo primo decreto. Con una velocità e un'efficienza, devo dire, mai viste prima. Il nuovo decreto consentirà all'autorità di pubblica sicurezza di sgomberare qualsivoglia raduno che superi le 50 persone quando dallo stesso, cito testuale, possa derivare pericolo per l'incolumità e la salute pubblica in maniera assolutamente discrezionale. Ascolta bene la parola discrezionale. In pratica, tutto quello che una norma non dovrebbe essere. Assoluta discrezionalità di chi la dovrà applicare è una nuova figura di reati che in realtà sono già sanzionati dalle norme in vigore. Articolo 266 del codice di procedura penale è seguente. Quindi, l'occupazione di una fabbrica, di un terreno agricolo, di una scuola, di una strada, una manifestazione di piazza per manifestare il pubblico dissenso verso un eventuale governo, un mucchio di appassionati, che ne so, a un rally o al giro d'Italia che superi comunque le 50 persone, potranno essere sgomberati a discrezione dell'autorità. Com'era quella? Creo il problema e offro la soluzione che avevo già nel cassetto? Devo averlo letto da qualche parte. Se questo è il concetto di futuro agevole, cito testuale dal discorso della Meloni, che ipotizza questo governo, direi che non iniziamo proprio benissimo. Voci dall'estero! Heiko von der Leyen, marito della nostra stimatissima Ursula von der Leyen, si è dimesso dalla carica di supervisore dei fondi stanziati da sua moglie. 320 milioni del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per un centro di ricerca in biotecnologie presso l'Università di Padova, il cui capo dipartimento è un tale Locatelli, ex capobranco del Comitato Tecnico Scientifico. Quindi mia moglie fa stanziare i soldi e io vado ad amministrarli. Ma è bello avere una famiglia su cui contare, non è vero? Questa volta però la faccenda ha fatto scalpore e ad anche al Parlamento Europeo se ne sono accorti. A sto giro forse era troppo anche per dei tedeschi. Direttamente dal Parlamento Europeo, dopo aver chiesto gentilmente ad Albert Bull, amministratore delegato di Pfizer, di essere ascoltato in merito alla sperimentazione e alla procedura di acquisizione del suo vaccino, dopo che Albert, il grande marpione, ha gentilmente declinato l'invito e mandando in sua vece una galoppina a sorbirsi le domande degli europarlamentari, dopo che è emerso chiaramente dalle dichiarazioni della rappresentante di Pfizer il fatto che sui vaccini non sono mai stati eseguiti test sulla contagiosità. Traduco, un vaccinato può contagiare ed essere contagiato a sua volta. Ma su questo tema state tranquilli, sto preparando un bel video pregno di cinismo dedicato. E' venuto fuori qualche altro piccolo problemino in merito alle procedure di acquisizione e pagamento dei vaccini da parte della comunità europea, che potremmo definire allegre. Pare che Albert, il grande marpione, e la nostra Ursula, la principessina europea, contrattassero personalmente, per telefono, con dei messaggini, quantità e prezzi dei vaccini al di fuori dei canali ufficiali. Una cosa, diciamo, fra amici. Adesso il panel Covid del Parlamento europeo ha chiamato di nuovo Albert a rispondere e questa volta pure la nostra Ursula. Vi terrò informati sugli sviluppi che si prevedono piccanti. L'angolo della notiziona. Dal 2035, solo auto elettriche. Proposta dalla Commissione europea. Auto elettriche. Significa filiera cinese. Cinesi sono le terre rare, cinesi sono i semi lavorati, cinesi sono le batterie. La proposta perfetta in questo momento di tranquillità dei mercati, di boom e crescita economica, la ricetta direi ideale per finire nella lista dei paesi del Terzo Mondo. A proposito di Terzo Mondo, gli ucraini hanno attaccato stima la scorsa il porto di Sebastopol, sotto controllo russo. I russi hanno risposto al fuoco bombardando un porto ucraino. Pare che da quelle parti ci sia una guerra. Come rappresaglia la Russia è uscita dall'accordo, raggiunto con tanta fatica, per consentire il transito delle navi con le forniture di grano. Secondo i media e i politicanti nostrani, Tajani in primis, la colpa è di Putin. Ha stato Putin. E' Putin il cattivo che in questo modo ricatta il mondo e i paesi più poveri che resteranno senza grano. Caro Tajani, ti faccio notare che il 75% delle navi cariche di grano hanno come destinazione l'Europa, non l'Africa. A meno che non si sappia già che a breve entreremo anche noi nella lista dei paesi poveri del mondo. Possibilità questa da non scartare a priori. Ma tranquilli cinici, non disperiamo. Al posto del grano russo e ucraino ci sarà quello americano e canadese. Un grano di alta qualità. Sì, lo so, è un pochino GM e trattato pure con il glifosato, ma non preoccupatevi. E' per il vostro bene. Così di notte non dovrete sprecare energia elettrica accendendo le abasur o le luci notturne, perché saremo tutti fluorescenti. Grano russo, grano ucraino, grano canadese, grano americano. Oh, nessuno che parla mai del grano italiano. Boh, misteri dell'economia. Elon Musk finalmente si è accattato Twitter. Dopo lunghe sofferte trattative ce l'ha fatta. Oh, beh, sono contento per lui. Auguri. Da oggi la mia vita non sarà più la stessa. Primo passo ha licenziato la responsabile della censura in diretta radiofonica, video disponibile in rete. Ammazza che trambata, ragazzi, essere licenziati in diretta non è da tutti, eh. Repubblica non ha perso tempo a regalarci subito una bella perla, enfatizzando il fatto che, non appena acquistata da Elon Musk, la piattaforma si sarebbe riempita improvvisamente di contenuti di odio. Il pensiero di Repubblica in sintesi. La pensi come dico io, sei ok. Parli come voglio io, sei ok. Fai domande, discuti, nutri dei dubbi. Questi sono contenuti di odio. Sempre secondo Repubblica, i contenuti a sfondo razzista sarebbero aumentati a dismisura. Beh, poteva mancare. Quando capita di leggere contenuti a sfondo razzista su qualsivoglia social, le persone normali hanno due strade. O asfaltano l'autore del post, oppure, scelta consigliata, lo ignorano. Per certi soggetti, credetemi, cari cinici, non c'è nulla di peggio che sentirsi ignorati. Li manda in tilt completo. Lasciateli semplicemente lì, in un angolo, a sbraitare da soli. Poi ci sono gli idioti che credono davvero ai contenuti razzisti, ma quelli sono fisiologici. Li trovi sui social, ma anche nella vita reale. Purtroppo, l'ignoranza è un virus letale ed è anche parecchio contagioso. Bene, carissimi cinici, si conclude qui anche oggi la mia piccola raccolta di news. Datevi da fare nei commenti e soprattutto non dimenticate di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina, così verrete avvisati ad ogni mia nuova cinicata.